Il Cudas, il Comitato per il diritto alla salute, questa mattina come promesso dinanzi all'ospedale Rizzoli e Gidio per raccogliere firme ma per testimoniare la richiesta dei cittadini isolani della zona disagiata. Certo e non solo questo, abbiamo già fatto la conferenza stampa per il riconoscimento della zona disagiata, diciamo è stato l'inbut perché avendo il riconoscimento di zona disagiata avremmo tutti i vandaggi a livello economici di progetti mirati per le scuole, per l'ospedale, per i trasporti, per il tribunale. Quindi il mare, continuiamo a dire, porta ricchezza, porta turismo, porta bellezza, però porta disagio. Questo dovrebbe entrare nella testa dei nostri politici perché noi lo stiamo facendo, abbiamo raccolto più di 4.500 firme, avete visto pure voi, ne stiamo ancora raccogliendo, quindi i cittadini scendono in gambo, sono consapevoli. Adesso questo è da pungolo e da stimolo ai politici per cui alla regione, ai sindaci, il presidente della regione deve coinvolgere la conferenza Stato-Ragione per poi fare il passo successivo che è quello burocratico. Quindi adesso queste firme andranno a Napoli? Certo, li stiamo conteggiando, ci hanno chiesto ancora foglie perché vogliono ancora continuare, quindi supereremo le 5.000 firme dei cittadini schitani che considerando che possono votare solo i residenti, dei maggiori è un buon numero, un numero finalmente di consapevolezza della cittadinanza attiva che vuole difendere i propri diritti. C'è stato un terremoto, l'ospedale deve essere sicuro, ha messo in sicurezza l'ospedale, è un altro dei punti che noi avevamo già richiesto nel settembre scorso al direttore generale d'Amore. Nei venti punti critici abbiamo messo a punto di controllare l'antesismicità di questo ospedale che come abbiamo visto non ha i criteri antisismi, è stato costruito negli anni 50, quindi oltre all'ampliamento vogliamo pure un ospedale sicuro dal punto di vista sismico. C'è stata una visita ai locali interni al piano terra dell'ospedale Rizzoli da parte del comitato, da parte di cittadini che erano presenti, Nicola Lamonica, il senso di questa visita ancorché non autorizzata per cui probabilmente ci sarà qualche problema? No, io non penso che bisogna avere un'autorizzazione per entrare in una struttura pubblica. Noi abbiamo visitato una parte della struttura pubblica, quella che sta al suolo, al piano terreno e ci siamo resi conto che ci stanno delle lesioni. Chiediamo alla struttura, chiediamo al manager di dirci se mai quelle lesioni siano state segnalate all'autorità competente per verificare se lo stato di salute dei nostri pazienti e dei ricoverati è in ottima condizione oppure devono preoccuparsi.